Ciao, sto andando a farmi coccolare e vi porterò con me. Andiamo, c'è il vento, c'è il sole, io non ho gli occhiali. Questo è l'outfit, molto semplice, comodo, perché vado a farmi coccolare. Salute anche qua, perché adesso siamo in video. E tutta questa bella crema è dovuta sempre al burro di karité, con solidale e all'olio di avocado. E quindi va proprio ad idratare per quello che è proprio un gel doccia idratante, una crema doccia. E il suo profumo molto fresco di clementini, bergamotto e arace. Per me, che sono appassionata di agrumi, proprio... Che guarda che la pelle è super morbida e luminosa, perché gli agrumi danno tanta luce alla pelle. Tanta luce, tanta luce, luminoso, luminoso, brillare, sempre brillare. Sì, poi già siamo brillati anche noi. Ecco qua lo shampoo solido per Pasqua. Ora consigli sull'utilizzo del nuovo shampoo solido. Lui dà tanta luce ai capelli grazie al limone e all'aceto che va a pulificare. Però la quantità giusta, perché sono molto concentrati. Io mi devo dire che sono uno, due e tre passaggi su una mano. Lo rimetti a posto e poi sfreghi e lui va a fare tutta la schiuma. E è a posto. E sarebbe già una dose molto giusta per andare a lavare i capelli. Praticamente non stare a continuare a massaggiare, 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 perché, insomma, potrebbe essere un po' eccessivo. Invece così, con poca quantità, diventa perfetto. I capelli sono giusti. E poi, essendo solido, comunque va a spaccato sulla plastica e non è in clienti per microplastica nel mare e tanti altri prodotti. Perfetto. Ed è un coniglietto. È un coniglietto. È un coniglietto, eccolo, lui non la va alle orecchie. E non va quella per se. Eh, quella per se. Non l'ho fatta vedere quella giusta. Oh, è un coniglietto, vedete? È un coniglietto. Lì si vede bene. Per lavarsi bene dietro le orecchie. Eh, tutto. Per fare tutto, 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 vicino alla carota. Oh, è un coniglietto. Adesso passiamo ai prodotti per la vasca e partiamo da questa, che forse vi ricorderete, ma adesso ci dice tutto. È la nostra bomba nuova di Pasqua, che ha una piccola sorpresa all'interno, perché va rotta e all'interno troverete un piccolo pulcinino, credo di sia, un pulcinino che potete usare per fare un altro bagno e coci per fare un altro bel bagno. Il profumo è di vaniglia e pergamotto, quindi è un profumo molto dolce e fresco, però puoi rinfescarvi la pelle dalla minuccia. Ci piace, ci piace, ci piace. Ma vabbè, guardate qua, cioè, brilla tutto praticamente, brilla da solo. Certo, ma è per fare un bel bagno d'oro nella vasca. È la nostra bomba da bagno che ci scioglie tutta. Mi scioglie molto lentamente, perché è ricca di burro di cacao, quindi vi fa fare un bel bagno super idratante e luminoso, che viene da più che agli plantini e illuminarvi con un bel bagno d'oro. Meraviglia! Con il suo profumo molto dolce, che è col miele. Mmm, idratante! Ma con questo, se avrò un biscotto, un biscotto con la crema, io che sono volosa. C'è proprio, sa di menta, tanta menta, frescissimo, freschissimo. Dici qualcosa anche di questo, poi non so se potrò usarlo. Lui è il nostro spumante idratante, che si chiama Rainbow Egg, che è un uovo, che va ad idratare perché tutta la crema che vedete nel centro è tutto burro di cacao, burro di carite eco, solidale, che va ad idratarvi la pelle nutrireta. Lui va proprio sbizzolato nella vasca, aperto e va a fare tantissima schiuma, e sotto tutta l'acqua super colorata, per fare un bagno schiumoso. E tutto questo che ha sempre mortato. E uscire morbidi, e idratati. E freschi, perché come va la menta che è intera. Esatto, anche freschi. A super rinfrescare. Wow! E spiega per più bagni, col bergamotto fresco, che va a dare un buon umore e rinfresca, perché lui è il bagno colorato. Ma è per più bagni, perché lui va messo sotto il getto dell'acqua, e fa come uno spinner, zira, si scioglie, e va sempre a fare tantissima schiuma e l'acqua colorata. No, vabbè, ci piace troppo questo. E poi dopo lo fate asciugare, lo potete riutilizzarlo, perché non finisce tutto. Wow! Quindi per quello che hai due bagni, io vorrei fare tanti dei bagni. Troppo carino! Un po' di brillantini. Sì, si vede, è luminoso, 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 luminoso. Meraviglia! Ma guardate lo schiuma! Cioè le confezioni per Pasqua sono qualcosa di meraviglioso. Ma guardate qui, questa col pesciolino è adorabile. Ma l'uovo? Cioè, ne vogliamo parlare? Olli caldi per i capelli! Dobbiamo provare maridi insieme. Finito le cose? Davvero deliziose, ho tocchicciato tutto, ho provato. Ho le mani morbide morbide, tutto profumatissimo. Adesso ho qui una bustina con me che mi sta riempendo la macchina di profumi e vi racconterò pian piano tutto, ma spero già di essere riuscita a fare un video decente per farvi conoscere le novità per questa Pasqua. Ciao! 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 Ciao!